Orietta Berti, l'amante, il marito e i tradimenti. Da giovane, una rivelazione clamorosa Il 2021 è stato l'anno di Orietta Berti, e il 2022 è iniziato ancora nel suo segno In gara al Festival di Sanremo, quindi dominatrice dell'estate con il Tormentone Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro, ogni presente in tv Infine, sul palco dell'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai 1 condotto da Amadeus, a scandire addirittura il conto alla rovescia per il brindisi di mezzanotte Ha 78 anni, una nuova giovinezza anche se in realtà la cantante Emiliana non ha mai smesso di essere sul pezzo È il successo che arriva a un'età certa, spiega lei al Corriere della Sera, ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv Vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la Coyacatevo il senior virgola e poi sono stata all'estero Dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maiunchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera Ha superato lo scetticismo della sua prima professore di musica e dei critici, eppure l'ostilità del suo mondo dopo il suicidio di Luigi Itenco a Sanremo, c'è stato un periodo in cui nell'ambiente mi schivavano tutti Pochi forse si sono mai accorti, che la sua canzone simbolo, finché la barca va, era molto più di una ingenua filastrocca Vorrei aprire in fretta il mio cancello barra ma quel cancello io non la apro mai, si parlava di tradimenti, quante occasioni si hanno da giovani, però bisogna avere l'intelligenza di scegliere O il marito o l'amante. Io ho sempre scelto il marito E anche questo, il sodalizio incrollabile con l'amatissimo Osvaldo, da cui ha avuto due figli, Omar e Otis, l'ha aiutata a superare le burrasche inevitabili di una carriera lunga 50 anni Anzi, veramente sono 55, come ha corretto Amadeus la notte del 31 Orietta Berti. Un tempo tutti mi schivavano, ora non ne ho momenti liberi. Cantare co' in maneschina. Già fatto C'è stato un tempo in cui mi schivavano tutti, ora non ne ho più a un momento libero. Così Orietta Berti si racconta sulle pagine del Corriere della Sera La cantante 78enne, con 16 milioni di dischi venduti durante una lunghissima carriera, è più che mai sulla cresta dell'onda Reduce dal successo della Hit 1000 in coppia con Achille Lauro e Fedez, la canto sempre sotto la doccia, confessa, dei suoi giovani colleghi racconta Fedez. È sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese Achille. Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato Sembra sempre svampito, ma è artista, e soprattutto è molto intelligente, quando parliamo ho l'impressione di far parte della sua famiglia da sempre, di essere una sua zia alla lontana C'è stato un periodo in cui la sua popolarità musicale è stata appannata, scrive il Corriere. Ma la tv l'ha sempre cercata, ricorda l'Aberti Ho fatto tre volte quelli che è il calcio, cinque volte buona domenica, ora ancora il tavolo con Fazio Quando abbiamo finito il primo anno di buona domenica sono andato da Costanzo a ringraziarlo, e lui mi ha detto Orietta, in questo ambiente non devi ringraziare nessuno, perché se tu non mi facevi audience, se tu non mi facevi comodo, io ti avrei lasciata a casa, e invece ti ho confermato anche per l'anno prossimo Parlando del rapporto con Fabio Fazio dice Ormai ci conosciamo da tanti anni, è come un terzo figlio. E ancora La vita regala spesso grandi occasioni. Vai a lavorare con una persona che non è tua coetanea, pensi di avere poche cose in comune, eppure scopri che ci vai d'accordo e la pensi allo stesso modo A chi le domanda se farebbe un duetto con Imaneschina, di cui aveva pronunciato erroneamente il nome nazischin durante l'ultimo festival di Sanremo, NDR, risponde rivelando Con Imaneschino ho già cantato. Quando hanno fatto il tour europeo sono andata in un locale di Zurigo con loro, un locale dove ero stata anche io venti anni prima, una festa di Italo-Svizzeri, e abbiamo cantato insieme. Certo che mi piacerebbe cantare con loro, chi non vorrebbe Orietta Berti, confidenze. Il cinismo di Costanzo, e le buche di Achille Lauro Vivere una seconda giovinezza artistica a 78 anni non è cosa che capita a tutti Adorietta Berti sì. L'usignolo di Cavriago, ha vissuto un 2021 strepitoso. Da protagonista assoluta nel mondo musicale e in quello dello spettacolo Scoprendosi amata non solo dal pubblico della sua generazione, ma anche da quello giovane Tutto merito dei social, della collaborazione artistica con quei ragazzotti che portano il nome di Achille Lauro e Fedez, Rai, mille Del fatto che in Rai tutti la cercano, e soprattutto della sua simpatia, condita da massicce dosi di umiltà che la rendono amabile da tutti La Berti, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato di questo e molto altro Il successo che l'ha travolta nei mesi scorsi è stato talmente intenso che adesso Rietta fatica a goderselo Motivo? Sono arrivati degli impegni a pioggia, e a volte non riesce ad assaporarli al 100% Addirittura il piccolo schermo la cerca più oggi di ieri, anche perché, riflette, un tempo c'erano meno canali e reti dove poter andare Orietta Berti Il legame con Fabio Fazio, e il cinismo televisivo di Maurizio Costanzo In realtà la Berti la TV, seppur non con i ritmi odierni, l'ha sempre bazzicata Fazio l'ha cercata spesso, fin dai tempi in cui conduceva quelli che il calcio, dopodiché ha presenziato parecchie puntate di Buona Domenica A proposito di Buona Domenica, racconta un aneddoto molto interessante e cinico riguardante Maurizio Costanzo, e i meccanismi televisivi Ho fatto tre volte quelli che è il calcio, cinque volte Buona Domenica, ora ancora il tavolo con Fazio Quando abbiamo finito il primo anno di Buona Domenica sono andato da Costanzo a ringraziarlo, e lui mi ha detto Orietta, in questo ambiente non devi ringraziare nessuno, perché se tu non mi facevi audience, se tu non mi facevi comodo, io ti avrei lasciata a casa, e invece ti ho confermato anche per l'anno prossimo Al Corsera spiega poi nel dettaglio il legame professionale e di amicizia che la unisce a Fabio Fazio A che tempo, Kefa è una degli ospiti fissi del tavolo? Con il giornalista genovese c'è un solido rapporto di affetto Ormai ci conosciamo da tanti anni, è come un terzo figlio. Ricordo la sua prima telefonata. Ti piacerebbe venire a fare l'opinionista qui da me a quelli che il calcio? Ma io non ho mai guardato per intero una partita di pallone, gli ho detto. È proprio quello che cerco io, mi ha risposto La vita regala spesso grandi occasioni. Vai a lavorare con una persona che non è tua coetanea, pensi di avere poche cose in comune, eppure scopri che ci vai d'accordo e la pensi allo stesso modo Fedez è un vero milanese, Achille Lauro gentile ed educato. Le confidenze di Orietta Berti Si giunge al capitolo Fedez e Achille Lauro. Con i due rapper ha confezionato Mille, una delle i più ascoltate dell'estate 2021 Quest'estate, Natta, mi vedevo più spesso con Fedez perché lui veniva alle promozioni di Mille, mentre Achille dava sempre buca Invece adesso vedo più spesso Lauro, perché lo trovo sempre in ogni trasmissione tv in cui vado Per quel che riguarda il marito di Chiara Ferragni, sottolinea che è stata colpita dal suo essere sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese Miele anche per Lauro. Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato Sembra sempre svampito, ma è artista, e soprattutto è molto intelligente. Mi trovo benissimo con lui, mi sembra di conoscerlo fin da quando era piccolo Quando parliamo ho l'impressione di far parte della sua famiglia da sempre, di essere una sua zia alla lontana Infine parla dei Maneschina, la band romana che sta scalando le vette musicali di tutto il mondo Orietta tesse le lodi di Damiano Davide e i soci, certa che il travolgente successo globale raggiunto sia da loro meritato Sono bei ragazzi, bravi, e fanno una buona musica. E se lo dice Orietta, c'è da crederci Grazie mille! Grazie mille!